Sì, assolutamente sì, nonostante i segnali del governo con questa manovra di bilancio che non è così favorevole per il segmento, per l'immobiliario in generale, ma per la casa in generale, c'è ancora tanta voglia di casa, soprattutto noi registriamo un aumento degli acquisti di seconde case. Questo dà il segnale che molti risparmiatori, e noi siamo un popolo di risparmiatori, decidono di investire una buona parte dei loro risparmi facendo meno ricorso al mutuo, acquistando una seconda casa e mettendo la rendita spesso attraverso locazioni brevi a uso turistico. Seconda casa, le chiedo subito, per fare affitti brevi, perché entriamo in quest'altro capitolo degli affitti brevi, per fare affitti brevi vuol dire bed and break, affittarlo per avere un minimo di reddito, è così? Soprattutto per motivi turistici, ma anche per motivi sanitari, per motivi legati a corsi di formazione, uno decide di non andare in un hotel, ma di andare presso un appartamento perché è maggiormente autonomo, c'è più libertà. Sì, soprattutto sta crescendo, negli ultimi sei anni sono triplicate le locazioni brevi, se è passati da circa 500.000 a oltre 1.600.000, ricordiamo però che è un settore che, proprio perché è in grande aumento, va salvaguardato, è una risorsa per l'economia locale e nazionale, e non invece, come pare in alcuni provvedimenti, riempire di ostacoli e balzelli. Ma la sostanza è che, grazie alla locazione turistica, noi riusciamo ad accogliere tutti, cioè riusciamo ad accogliere tantissimi turisti, sia italiani che soprattutto stranieri, che aumenteranno ancora di più in questa stagione invernale, e vorranno vivere un'esperienza non tanto e non solo, unicamente negli hotel, ma anche e soprattutto attraverso appartamenti, case, proprio perché sono in maggiore autonomia e libertà, e quindi proprio per questo il report fa emergere come la locazione breve a uso turistico, ma la locazione breve in generale sia una vera risorsa, come dicevamo prima, per l'economia locale e nazionale, e quindi va ad ampliare l'offerta turistica nazionale. C'è una grande attenzione soprattutto in relazione al credito, c'è una difficoltà di accesso al credito, c'è un meno 30% di mutui erogati in relazione in particolare alla prima casa, quindi diciamo le persone, le famiglie stanno molto più accorti e attenti e soprattutto in relazione al cambio della prima casa per le proprie esigenze, quindi se uno ha due figli o tre figli e magari vivono un appartamentino un po' piccolo cerca di cambiare e vivere un appartamento più grande, quindi si ricercano degli spazi ampi, delle comodità e la vicinanza ai servizi per la vita frenetica che attanaglia a tutti noi. Noi abbiamo un dato del nostro centro studio che l'84% di contenzioso post vendita tra privati avviene senza l'ausilio dei servizi di intermediazione, immobiliare, quindi sicuramente cercare di rivolgersi ad un'agenzia immobiliare chiarendo il servizio, perché anche nel nostro mondo ovviamente ci sono tante realtà. Qual è la percentuale che bisogna dare ad un agente immobiliare? C'è una cifra? La legge qui è molto chiara anche perché siamo stati recentemente, una quindicina di anni fa c'è stata una sentenza dell'antitrust, la provvigione va concordata tra le parti, quindi tra l'agente immobiliare e il cittadino e quindi a seconda anche della tipologia dell'immobile, del prezzo e anche dei servizi correlati, perché un discorso è limitarsi a intermediare, un discorso è erogare tutta una serie di servizi legati alla raccolta e al controllo di tutta la documentazione, di liste urbanistiche, catastali, di provenienza condominiale, impiantistica, che riguarda una compravendita. Ci sono tanti aspetti, oltre a assistenza e consulenza, fino a saldo e consegno e stipolo, cioè fino a che si arrivi dal dettaglio. La chiarezza è fondamentale.